Ma bella a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovissimo video qua sul mio canale ragazzi Oggi siamo qui per andare a farvi vedere il luogo in cui si trovano le bottiglie di blu cristallino Presso i rettami a sud di mole molesti ragazzi Questa sfida che vi darà il colore blu cristallino e che potrà farvi bloccare la skin cartonno Stile cristallo Continuiamo con questa serie appunto delle bottiglie dei colori di cartonno ragazzi Spero che questa serie vi piaccia Spero che più che altro vi sia utile se vi piace molto questa skin Allora Allora ragazzi Queste bottiglie di blu cristallino le troviamo nel condotto appunto a sud di mole molesti In questo condotto qua dove c'è la navicella distrutta Niente se voi avete già fatto quello della skin scorpion mi sembra E' la stessa cosa solo che quella lì era Mi sembra qua in mezzo una roba del genere E niente adesso andiamo a bloccare quelle blu cristallino Ne vediamo già una là ragazzi E niente adesso seguiamo il corso Allora partiamo Entriamo in questo subordo di viola Ecco qua ragazzi troviamo già qua il primo Andiamo a recuperare Seguiamo ancora il tragitto Ecco qua il secondo ragazzi Seguendo il tragitto troviamo Ecco qua Perfetto ragazzi Adesso ci sentiamo E tecnicamente abbiamo sbloccato lo stile Ehm Della Blu cristallino per la skin cristallo ragazzi Per la skin cristallo Andiamo a vedere Eccola qua Cartonno blu cristallino Bellissima Eccola qua Finalmente nel nostro armadietto di gioco Eccola qua Blu cristallino E andiamo a sbloccare la skin cristallo Anche questa molto bella Niente ragazzi Spero che questo video vi sia utile E che vi sia piaciuto Se è così stato mettete un bel like E iscrivetevi al canale Noi ci vediamo in un prossimo video E Bella ragazzi